buongiorno a tutti i volanti a cosa vedi della carriera di attacco time time dopo come si dice dopo la cosa aspetta qua ah si si vabbè basta di andare eh ti stavo aspettando che peccato non essere riusciti ad arrivare tra i dieci migliori comunque tutti quelli dei stati inutili vero penso che siano soldati migliori adesso adesso ci siamo diplomati nel corpo dell'accadetico del ci passare le cose le abbiamo lavorato ah cacchia si tiene un tipico tempo d'accordo comincia tu ah vabbè vabbè ho passato un bambino un po' di tempo non è realizzato Eren ha un coraggio straordinario è un grande spirito è un coraggio Armin è intelligente e determinata a non farsi sconfiggere si prepara un'attività ah si assolutamente per compensare la sua stessa vabbè con l'altro determinazione entrambi hanno un ottimo l'attivamento nei confronti dell'addestra mente si credo che dovremmo prendere esempi da loro Mina e te come andate io ho seguito Mikasa e Krista Mikasa Mikasa riesce a tenere tutto il controllo e l'esprimazione in qualsiasi situazione e meno che non ci sia l'immaggia ero ma è che non ci segui Krista è bellissima a capire cosa succede intorno a lei e tiene sempre d'occhio le azioni e il controllo è davvero fantastico Mikasa non credo che l'occhiere di un tanto bravo ma è che mi casa ma forse io ho devo inspirarci a Krista e due poi ci racconti che ti arrasti beh a poi bene e che abbiamo finito è stato molto interessante è stato molto interessante sì Sì, credo che sia utilizzato come femminile i nostri compagni. Ho imparato molto. La cabaretta è tra. Ora sembrate molto motivati. Quella attenzione, sì. Però in generale, super... Mmm, trea, lo dico. E come, diretteremo bravissimo. Dovremo passare del tempo con un altro compagno e imparare il più possibile. Ottimo idea. Quello loro aiuto e tanto impegno diventeremo dei soldati. Lavoriamo! Non ti trattenere. Eh, vabbè, con il tuo obiettivo. È un lettere. D'傾zione. Ora... Il corretto veloce. Adesso, non ci si può comprare il prendimento di un abitabile! verità apposta cazzo un cavolo rossi il tempo è proprio volata o tra parentesi tieni ancora col diario ci scrivono si no e questo è il tipo di atteggiamento che mi piace continua così anche dopo che avrai occupato la tua posizione sono sicuro che quel diario ti tornerà utile prima o poi continua così 303 non 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 se nemmeno tu ce l'hai fatta alcuni degli altri devono essere fenomeni dell'altro mondo già a chi lo dice avrei dovuto allenarmi più duramente ti viene al corpo di warlingione? si chiaramente pensi che sia un pazzo da unirmi al corpo di ricerca beh mi viene da momentare al solo pensiero di uscire da loro ho sempre pensato che tu fossi incredibile voglio dire volevi entrare nel corpo di ricerca fino dal primo giorno qual è il corpo? io farò richiesta per la giomanderia io ho appunto essere la prima come tutti gli altri chiaramente ho per caso sentito di che ti unirai al corpo di ricerca bella decisione è tua immagino sono così trovato di essermi piazzato tra i primi dieci sarà un vero onore servire così vicino al re si assicuro nei territori in te guardi mattico con rispetto grazie è qui che cominciamo a fare sul serio eh appena assumeremo il nuovo... ok possiamo farci questo è un buon sogno che si avvera abbiamo entrambi raggiunto il nostro obiettivo eh è ora di fare della differenza oh sei tu l'ultimo allenamento è stato tosto eh ah 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 a ma io credo che non è particolarmente stato un allenamento di uruguay oi, allora, se tu ti insegnassi una cosa per fare lo spazio o se tu ti insegnassi una cosa per fare lo spazio se tu sei una vera roba se tu sei una vera roba come mi chiamata se sono in un video se perché non è El, cosa sta succedendo? ok ok eh, ok 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 Mi piace vedere se ci mostrassi come fai Perché non chiediamo anche a Mikasa di unirsi a noi? Non vuoi solo farti bello agli occhi di Mikasa Non è un'idea Gli usiamo meglio Possiamo tutti imparare Era se hai fatto male Non mi piace mai Non mi piace mai Ma questa è solo un grande Lascia mi stare a Mikasa E' ancora che Gino mi dica cosa E' ancora che Gino mi dica cosa Ma non ho già un accordo Facciamo la prossima volta Va bene In un modo in un altro Come vinto Gino mi sognare Va bene Fantastica Finalmente andremo in battaglia? Spero Con il suo fio io uccido i giganti veri Doppio il video Che ho fatto Che si sta caricando C'erano 4 ore Mi piace Mi piace Dall'online Allora dobbiamo fare una sovere di soldati giusto? Accidenti E' riprendersi E' stato addestramento Bello tosto eh Come te l'asse passata I ultimi tre anni Te accettate E' stato E' stato Non riesco E' stato duro Sì 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 vero ma ci abbiamo fatte In un modo o nell'altro Ci siamo In vicenda direi Ti unirai al corpo ricerca Anche tu E' no? E' che metteremo In entrare nelle nostre vite A rischio Sto spostando il personaggio Sto spostando il personaggio Mi piace Accipicchia Sono davvero riuscito a riprogarmi Come è che abbia passato l'esame di comitato Forse dove ho potuto questo Questo gigante Pensavo che avrei potuto unirmi Al corpo ricerca anch'io Ma sono un po' nervoso Non so se Ho le qualità giuste Con tu ce la faresti Ci sarò io Andrà tutto bene Già non sapere Il triangolo questo è giusto Beh Sì Sono un bravo sul piano accademia Ma sarebbe davvero una cosa utile Sono arrivato fin qui Ora mi unirò finalmente al corpo ricerca E io ce la metterò a tutta Se gli avrei dato la terza risposta Ma si sarebbe un Mi ha fatto un problema E' stato una gran bella avventura? No Ricordo ancora la nostra Iniziazione Sono stati tre anni difficili Congratulazione Sono rientrato fra i primi E' stato un'occasione E' stato un'occasione E' stato un'occasione E' stato un'occasione oi c'è il risultato e sì ecco 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 Ora, ci sono i nostri spettatori che ci sono i nostri spettatori, e poi ci sono i nostri spettatori. Un grande squadra, va bene, sempre da vero. Allora... Qualunque il ramo delle forze armate Eren scelga io lo seguirò E tu invece non volevi unirti al corpo di cerca anche tu Non ho ancora deciso Sì, sono inammuovibile in proposito Il discorso di Eren ha chiuso la questione per Nella quadrata Davvero, beh, è fantastico A qualunque corpo tu scelga di unirti La cosa più importante è essere fedele a se stessi O almeno così la penso io Ma non c'era Eren qua, vabbè Ah, vabbè Hai un minuto? No, non ce l'ho Da qua c'è la mia maniera Sono tutti imbatti in me E io Sì, io mi guardo così vicino sono davvero arrivato da quello che mi dice No, mi aspettavo di fare così bene davvero No, non c'è la mia maniera No, non c'è la mia maniera Ass Makai è venire Non c'era come il linguile Sa quanto temporali Alla godra Il mio listen Da cosa... Ancora Ma Vabbpus Vi Questa Si Il C'è un po' di più di più di più di più. e che lo metti con tutto da tutti a già andiamo gina e sveglia canac tempo tra una linea o no 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 ma non è che sono stupido a reso i tibai io riesco a vedere la verità quando cc Altre sono inizia. per morire svegliati quello che sappiamo oggi c'è ci dà speranza giusto che l'età non è ancora spacciata io voglio segnare quello gigante che vedo liberamente dei confidi possi da questa mura davvero frecognitore Eran aspetta vai pure vai come ti pare non mi hai fatto cambiare idea mi scelgo la cermanderia non accettabile hai parlato con tutti i tuoi compagni amicizia con gli altri cadetti è davvero importante e allora a partire da domani sarai un vero soldato dovresti esattamente tutto il tuo equipaggiamento prima di che venga affidato il tuo primo incarico non credi dovresti trovare tutto quello che ti serve nel negozio del corpo ora puoi andare nel negozio del corpo mi piace se c'è l'elemento inizia troppo vuoi venire nel campo e adesso vedo come no dopo aver completato un elemento è tremendo oggi è stata dura se avessimo questa situazione che solo con una gente erano morti già è stato davvero un ricordo però te l'acqua la sei cavata bene non è che se avessimo se avessimo se avessimo se avessimo l'elemento inizia l'elemento inizia se avessimo se avessimo l'elemento inizia quando è necessario. Pianta al mio cane, non sono più un ragazzino, smettere di trattarmi come tale. Scusate mia, ma il fatto che quando ti fai prendere a qualcosa smetti di vedere il quadro più ampio, sei sempre stato così, mi fai preoccupare. Come ho detto, non sono un ragazzino, è anche un fratello minore. Scusate, non so, non so, non so. Scusate, non so, non so, non so. Mi sentiamo i miei, adesso? Scusate. Ma è un ragazzino che non mi sembrava? Non so, non so, non so. E' un ragazzino che non so. Sono un ragazzino che non è difficile, ma che non so. Perchè avrei Sì, ora ci siamo tornati a tornare Anche noi abbiamo dovuto fare Ma presto! Perchè avrei Perchè avrei Non è vero Perchè avrei Perchè avrei Perchè avrei Perchè avrei Perchè avrei Ah va bene Stai cercando di sviluppare qualcosa E che cacchio, non c'è più Va, 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 fa ambrogio Ma non ho bisogno di qualcosa Eh, ma vai colpaire Va, prendiamo qualcosa E in forza 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 Il video vi sia piaciuto di Il prossimo è sicuro dai che lottiamo Dai, è sicuro che lottiamo il gigante Spero Ah no, aspetta, mi sembra che c'è la meraviglia Da domani sarà un vero Questo dato Ok, posto domani Va bene, nel proprio domani Non credo che esco un altro video Quindi Spero che il video vi sia piaciuto E domani Ne uscirà un altro sicuro Non so, forse anche due E E Perché Vado a vedere il film di Star Wars L'ascesa di Skywalker Quindi non lo so Magari riesco anche a farne due, eh Comunque Spero che il video vi sia piaciuto E Da Tiger303 Buona giornata Buona giornata